Mi chiamo Fabrizio Fantini, lavoro in Cosmed, azienda di Firenze, da oltre dieci anni in Pallex. Siamo un'azienda storica fiorentina sul mercato da oltre 40 anni. Siamo comunque un'azienda in continua evoluzione, fatta da un team di ragazzi giovani che comunque fa distribuzione principalmente per tutta la GDO Toscana, è quello che facciamo in Pallex, oltre a avere una produzione di nostri clienti che poi mettiamo nel network e distribuiamo su tutta la rete nazionale e internazionale, sempre grazie a Pallex. Ci hanno chiesto una volta di trasportare delle casse in legno, era già stato fatto il preventivo per il trasporto e tutto quanto, al che il possibile cliente mi fa la domanda del tipo, ma potete dare da mangiare durante il trasporto alle bestie all'interno delle casse? Al che alla domanda ho chiesto perché cosa contenessero queste casse, mi ha risposto che avrebbe spedito dei serpenti vivi e quindi sarebbe voluto, siccome le spediva nel sud Italia, ci sarebbe servito che qualcuno durante il trasporto si fosse fermato e avesse dato del cibo a questi serpenti. Ovviamente non abbiamo fatto il trasporto. Siamo entrati in Pallex, abbiamo scelto la partnership con Pallex perché comunque ci ha dato due opportunità fondamentali in un'azienda comunque a carattere familiare e regionale come siamo noi. Ci ha permesso di ottimizzare i nostri mezzi sulla distribuzione, appunto essendo il loro distributore per il GDO Toscana e ci ha permesso comunque di essere una realtà locale competitiva con i grossi marchi per quanto riguarda le consegne su tutto il territorio nazionale. Per cui un consiglio che posso dare a tutte le altre piccole e medie realtà come le nostre è di affidarsi a un network come Pallex che comunque affidabilità, competenza e precisione delle consegne ti permettono di essere un competitor importante su gruppi molto blasonati e dai nomi importanti nazionali e internazionali. Grazie